ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo l'orologio che andremo a spulciare oggi è un glassute original senator excellence perpetual calendar che nome che ci abbiamo qua un calendario perpetuo un orologio complicatissimo con varie funzioni e complicazioni sul quadrante che ho scelto perché per portare qualcosa di differente dai per portare qualcosa di pregio di particolarmente poco visto anche se so che non non è la portata di quasi nessuno di noi o meglio ci sarà qualcuno ma sicuramente non è nella media diciamo un orologio che costa 24.700 euro non è alla portata di tutti e a nord del vero devo anche spezzare una lancia a favore di giacomo della gioielleria pasquale domenici perché me lo ha messo a disposizione lui l'ho scelto io chiaramente nonostante queste caratteristiche nel senso che a lui gli farei un favore se io scegliessi un orologio un po economico per le vendite lui li vende più facilmente un orologio a 500 euro la gente clic 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 magari lo compra un orologio da 24.700 euro non lo comprerà nessuno dopo questo video non è che c'è la corsa all'acquisto impulsivo del clic bello l'orologio quindi onore al merito a giacomo che mi lascia prendere gli orologi che mi piace prendere cioè anche se non c'è un torno a conto preciso perché insomma un orologio costoso come dicevo però è un orologio di pregio un orologio che non si vede spesso è un orologio che mi piace l'idea di portarlo sul canale per far vedere le complicazioni come sono fatte per cosa cosa porta questo orologio no anche se poi al 100% non rientrano i miei gusti no voglio dire molto molto classico ma poi lo vedremo nelle considerazioni finali adesso vi mostro l'orologio del giorno che anche oggi è questo opaco sporco brutto e cattivo rolex explorer è un periodo un po così che mi indosso l'explorer 39 mm di diametro cassa quadrante nero orologio per tutti i giorni e per tutti i polsi sembra che si va a fare la pubblicità vabbè un bell'orologio dai adesso giriamo la camera diamo un'occhiata al senator excellence e poi ci vediamo qua come al solito per le considerazioni personali diamo una sbirciatina ai risultati ottenuti dalle misurazioni sul campo diametro cassa 42 mm spessore 12.8 ingombro trasversale al polso 49 e interasse ansa da 21 mm misure che per un pluri complicato risultano essere a misura d'uomo sia i 42 mm che lo spessore potrebbero tranquillamente essere quelli di un normale orologio solo tempo come si sa le complicazioni aggiuntive ha bisogno di maggiore volume interno almeno in teoria nella pratica si è invece riusciti a contenerle all'interno di una cassa dalle proporzioni standard questo è sicuramente un valore aggiunto di cui tener conto molto spesso abbiamo visto orologi con meccanismi elaborati che però risultano poco indossabili al polso tra l'altro si tratta di una cassa che fa della classicità il proprio segno distintivo un cilindro uniforme sul quale una lunetta minimalista e il fondello quasi piatto svolgono la funzione di chiudere in maniera compatta il profilo laterale non vi sono tratti di fantasia galoppante ed è tutto riconducibile all'essenzialità dello stile germanico proprio della casa anse comprese si staccano repentinamente senza preavviso lasciando intatto il concetto di cilindro prima espresso il tutto ornato da finiture perfettamente in linea con la qualità dell'orologio una alternanza di satinature parti lucide che trova il culmine sul dorso delle anse stesse in soldoni osservando l'orologio lateralmente prevale la spazzolatura mentre osservandolo dall'alto si nota una sagoma completamente lucida frutto della somma tra lunetta ed orso anse non staremo qui a deprecare le lucidature accusandole di essere foriere di possibili graffi questo non è un orologio per tutti i giorni questo è un orologio fuori dal comune da indossare in situazioni importanti o particolari anche per questo motivo l'impermeabilità dichiarata di soli 50 metri non che sia un dato insufficiente anzi considerati i vari pulsanti di regolazione incorporati sulla cassa si tratta di un dato rimarchevole semplicemente non è un orologio da indossare in tutte le situazioni acquatiche comprese lo si avvince sia dalla corona a pressione che dal fondello tenuto in sede tramite l'ausilio di cinque semplici viti e qui una volta tanto lo zaffiro presente risulta proprio ed eutico a mettere in mostra un meccanismo che vale la pena osservare si tratta del calibro 36 12 movimento di manifattura e di architettura proprietaria realizzato tra le quattro mura della casa i rigorosi test prevedono una durata di 24 giorni nei quali vengono eseguite varie prove tra cui regolazione e controllo su sei posizioni test a tre diverse temperature tre giorni di monitoraggio riserva di carica e prova impermeabilità sotto vuoto in una campana creando una pressione negativa e positiva alla fine ogni calibro deve rientrare nello scarto massimo di meno 2 più 6 secondi al giorno per quanto riguarda le caratteristiche tecniche occorre evidenziare l'utilizzo della spirale in silicio con regolazione a collo di cigno un particolare sistema micrometrico che garantisce stabilità e precisione da notare poi la decorazione sul ponte sottostante che viene eseguita a mano senza l'aiuto di una traccia pre incisa il rotore di carica in acciaio in primo piano è invece realizzato utilizzando una più pesante massa periferica in oro 21 carati mentre curioso ed apprezzabile il fatto che il treno delle ruote di carica sia bene in vista e non nascosto ogni singolo elemento del movimento gode di una finitura ben precisa nulla è lasciato al caso o appositamente dimenticato anche i più piccoli nascosti ingranaggi vengono decorati come se fosse di vitale importanza un calibro con complicazioni particolari che poi ritroviamo sul quadrante sotto forma di funzioni ma prima di elencarle è bene ricordare che anche i quadranti vengono realizzati in house più precisamente nella sede di forzheim un dial a finitura micro porosa che assorbe completamente la luce frutto di una lavorazione a bagno galvanico e sul quale vengono poi applicati gli indici in rilievo attenzione si tratta di indici in oro e pigmentati di blu in un secondo momento quasi a voler evitare di mostrare eccessivo sfarzo sono invece azzurrate termicamente le varie sfere presenti e qui si inizia l'elenco delle complicazioni si tratta di un orologio con calendario perpetuo grandata e fasi lunari significa che non è necessario impostare la data saprà riconoscere i mesi con 30 giorni quelli con 31 ed anche il 29 febbraio che cade ogni quattro anni non è quindi necessario impostare la data fino al 2100 infatti ogni 100 anni viene soppresso l'anno bisestile e non esisterà il 29 febbraio il quadrantino ad ore 12 è finalizzato a riconoscere il quarto anno bisestile e lo si regola dal pulsante incassato sul lato cassa ad ore 2 la porzione indicata dal numero 4 rappresenta l'anno bisestile essendo il 2024 anno bisesto ecco che dobbiamo impostare il febbraio presente in quello spicchio da ora un po e fino al 2100 riconoscerà il 29 febbraio naturalmente anche le altre finestre sono regolabili indipendentemente in modo da poter settare l'orologio in qualsiasi momento della nostra vita quello ad ore 10 cambia il giorno quello ad ore 8 cambia giorno e data assieme e quello ad ore 9 ruota le fasi lunari fasi lunari anch'esse legate al calendario perpetuo ma che necessitano di una ulteriore regolazione solo dopo 122 anni a proposito di questa complicazione occorre segnalare la cura di realizzazione laddove il circoletto della luna è fresato a mano su un disco di acciaio azzurrato a un preciso angolo di curvatura per ottenere un effetto a specchio la grandata invece una prerogativa della maggior parte dei glassute original e vede anche un brevetto interno della casa in pratica si hanno due piccoli dischi data che ruotano concentrici restituendoci la cifra tramite due numeri separati una complicazione che ha bisogno di particolare precisione per fare in modo che lo scatto sia istantaneo specie quando sono entrambi i numeri a cambiare in tutto questo marasma di complicazioni funzioni aggiuntive si potrebbe pensare ad un problema di leggibilità niente di più falso il tutto è perfettamente distinguibile e il quadrante non sembra neppure così affollato a parer mio è stato fatto un ottimo lavoro di design e di integrazione delle complicazioni addirittura si riscontra una certa simmetria pentagonale tra le varie finestre non dovrei neppure menzionarla ma per i più pignoli segnalo che non è presente alcun accento luminescente non è previsto e non ci deve essere non rimane che parlare del cinturino anche se dopo questa scorpacciata di contenuti interessanti pare al quanto marginale non è certo un orologio da scegliere in base al colore del cinturino in ogni caso si tratta di un alligatore della louisiana in blu scuro una tonalità che riprende gli accenti presenti sul quadrante nulla da eccepire sulla parente qualità anche se sarà poi il tempo a decretare o meno la bontà di questa affermazione mi sembra un poco rigido ma forse da considerarsi più un punto forte in relazione appunto alla durata da segnalare che non ho volutamente spellicolato la chiusura una deployana d'ardiglione che trovo la scelta corretta per il pregio dell'orologio possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali cinturino in alligatore della louisiana minchia ne so che cos'è l'alligatore della louisiana non me lo chiedete dovrei chiederlo al mio amico john kustraps magari lui ci sa spiegare perché per come io non ne ho idea prendiamo per buono questo nome così esotico che poi voglio dire non è cinturino che può fare la differenza no in un orologio come questo orologio che ha difetti e non lo so se ha difetti sinceramente con quali difetti li possiamo trovare i difetti che i punti deboli possono essere pretestuosi dai l'impermeabilità di 50 metri che sono anche tanti per un orologio con tutti questi buchi sulla cassa no quindi uno dice voglio 100 metri orologi complicati di 100 metri anche anche non servono altri no non ce n'è di difetti quasi l'orologio perfetto se non che a me non mi piace ecco fatto il discorso quando uno dice non c'è l'orologio perfetto è soggettivo no a me sto orologio qua non piace perché è troppo classico a me non ecco a me non interessano le complicazioni nell'orologeria non sono uno di quelli filosofi no che a tutti i costi vuole l'orologio complicato di pregio con le cosine biribim biribim solamente per il gusto che ci siano no a me non mi interessa infatti se ci fate caso io preferisco il solo tempo solitamente come orologio quando c'è da tirare fuori i soldi e comprarli cioè se me lo regala lo prendo però quando c'è da comprare solo tempo ho preso il gmt della brightening e chronometer pur non servendomi il gmt è capito se ci fosse stata la versione solo tempo avrei preso la versione solo tempo però ho preso quella ecco gli orologi troppo classici complicati come questo non rientrano nei miei gusti se avessi 24.600 euro da spendere in un orologio non li spenderei in questo ma perché non rientra ai miei gusti non perché non li vale l'avete visto che che popò di calibro che ha la manifattura c'è glasute fa fa tutto dentro la sua la sua manifattura dentro le quattro mura della della casa siamo veramente a parlare di un orologio sublime con la simpatica calendario perpetuo la complicazione del calendario perpetuo la grandata le fasi lunari che a me non mi piacciono per niente le fasi lunari però è un esempio è un esempio anche i numeri romani ci stanno bene su questo quadrante qua in questo stile qua ci stanno bene no è un esempio dell'orologio classico complicato come deve essere poi non lo so magari a queste cifre qua quanti altri riescono a dare ci sono anche dei marchi a meno offrono calendario perpetuo e però non hanno sicuramente la manifattura che ha glasute origina tanta roba punti forti quanti sono appunto i punti forti l'avete visto sono tutti i punti forti la qualità delle finiture la qualità dell'orologio le complicazioni il calibro i quadranti se li fanno da soli e cosa dire niente non c'è proprio niente da dire se ci avete 24.700 euro e volete un orologio con le complicazioni le complicazioni poi ce le avrete anche voi sul conto corrente però quello non è un problema eccolo qua il glassuto original senator excellence perpetual calendar è l'orologio che fa per voi io ragazzi ho avuto piacere a mostrarvelo sul canale no con tutte queste belle macro le spiegazioni e poi se lo volete comprare fate voi e andate sul click metti nel carrello lo compri 24.700 meno sul conto e alla via così boh mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino a qua e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love